Io mi chiamo Gabriele Vona, il mio cognome è Vona, il mio ruolo è centrocampista centrale. Secondo me il portiere è un ruolo abbastanza difficile perché deve avere molta esperienza prima di tutto, responsabilità di tutta la partita a volte e poi devi essere molto agile. Direi che è un ruolo abbastanza difficile. L'ultima volta che ho fatto gol era in una partita, qualche mesetto fa, che ero dalla difesa, mi è arrivato un rimpallo, da dietro ho fatto il pallonetto e ho scavalcato il portiere. La più bella parata che mi ha fatto un portiere è stata quando ero all'interno della linea di centrocampo, ho provato a fare un tiro a giro, era quasi sotto al sette, si è tuffato con la mano e l'ha presa. A me mi è successo che in una partita avevano fatto un tiro da molto vicino alla porta, il portiere si era tuffato, l'aveva parata, poi l'avversario aveva tirato di testa, il portiere al mio portiere è andato in rovesciata e l'ha parata e io gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che di sicuro avrebbe vinto il premio di miglior portiere del torneo, infatti è successo e poi è stato un grande. in questo camp ho imparato le parti del piede, ho imparato la sensibilità podalica e poi ho imparato l'educazione, ho imparato a come sono i calciatori professionisti e ho imparato le regole del calcio.